Ma dove stai? Guarda il tapinarolo come vai, le passeggiate che fai, adesso poi arriva anche a Roma a pieni, dai il Papa, vai col tapinarolo, piano piano, tapinarolo, no no guarda alto col tapinarolo Eccolo o no? Com'è il tapinarolo? E' come un coglione, vai il tapinarolo, e vabbè dove vuole andare, vai vai, questo smanicato al top, anche sul tapinarolo, si ma ne capisci che stanno fumando le gambe, piano piano, fai un culo Beh ma scusa eh, ma sei sul tapinarolo? Com'è possibile?